Amici miei, come state? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, benvenuti o bentornati ancora una volta qui sul canale Oggi torniamo a parlare di gadget e in questo caso gadget super utili, adatti praticamente a tutti E come facilmente voi intuibili dal titolo, economici, infatti siamo sotto i 30 euro E per molti anche sotto i 20 e anche di molto, quindi non perdiamoci in troppe chiacchiere Perché ho un bel po' di cose da raccontarvi e ho delle chicche pazzesche, infatti voglio iniziare proprio a bomba Quindi sapete bene cosa fare per supportare questa serie di video, quindi iniziamo subito perché vi spiego tutto in poche parole Allora ragazzi, partiamo subito e partiamo subito con il primo gadgettino Che sfilo da qui, che magia, mamma mia Ho fatto pure lì, ma vabbè, no non è bene, vabbè non lo so Comunque ragazzi, il primo gadgettino forse direte Ma è semplicissimo, è un cavo E no, vi sbagliate perché qui davanti a me ho un cavo pazzesco ragazzi È una figata atomica Lo comprerete, fidatevi di me Parliamo di un gadget che si aggira su un prezzo di 9 euro circa 10 euro, una cosa del genere, lo trovate su Amazon in diverse colorazioni Ma perché è così particolare e perché secondo me è così figo? Beh, prima di tutto guardate un po' il packaging Da questa parte forse si vede un pochettino meglio È veramente eccezionale Guardate come viene presentato bene, sembra quasi un gadget di Xiaomi E dica così, ratta, e perché è così figo? Semplice, ragazzi, lo andiamo ad aprire e vi faccio vedere Ma dalla confezione già è tutto chiaro Questo è un gadget O comunque un cavo La scatola non riesco a me ad aprire È un cavo che ha integrato un display Che non solo è figo Perché è utile Ma è figo perché vi mostra Qui i watt Con il quale state ricaricando il vostro smartphone Dispositivo che sia E soprattutto Grazie a un chip che ha all'interno Vi permette anche di gestire Nel migliore dei modi La ricarica dei vostri dispositivi Quindi eroga la giusta potenza E ancora Vi fa capire Anche se state effettuando una ricarica In maniera veloce Quindi state utilizzando La ricarica rapida O meno Quindi ragazzi Completissimo Display ovviamente piccolissimo Non vi aspettate Chissà che cosa Però vi permette di avere Un gadget un attimino più figo Un po' diverso dal solito Vi ricordo tra l'altro Comunque voglio sottolineare Comunque è bello rigido Ragazzi è veramente Molto molto ben fatto E non me lo sarei mai aspettato E ve lo dico Lo acquisterò Ne acquisterò altri Perché non lo so Mi sono ormai affezionato L'ho visto da Marcus Brownlee Lo conoscete sicuramente Ma come stavo dicendo È bello resistente E funziona bene Quindi stra stra consigliato ragazzi Eccezionale Mi piace troppo L'ho preso in questa colorazione Che è un po' Mi fa rabbia Mi sarebbe piaciuto In altre colorazioni Tipo Nera Perché c'è nera Ve la consiglio Questa qui è tipo Oro Argento Non si capisce tantissimo Però comunque è molto bello E funziona bene Ma Come utilizzare un cavo del genere? Con un alimentatore classico? Ma no Io qui Ho qualcosa di molto più figo E completo Ho meglio Un power bank Ma attenzione Fighissimo Ve l'ho mostrato già In un precedente unboxing Questo è un power bank Che Non è soltanto Figo Per Diciamo La sua estetica Perché è bello Perché è veramente molto bello E anche molto ben costruito Per il prezzo Non me lo sarei mai aspettato E dico questo perché ha un Diciamo Una copertura tipo soft touch Veramente molto piacevole Al tatto Che però Cosa che mi sorprende E che approvo E voi lo sapete Non trattiene troppe impronti Non si graffia facilmente Quindi bella resistente E mi piace Approvo Non è da tutti Ve lo posso assicurare E poi ha due entrate usb Per ricaricare Quindi perfetta Per il nostro bellissimo Power Cioè per il nostro bellissimo cavo Perché è un cavo usb Type c Poi lo potete trovare Lightning Micro usb Quindi io spero In futuro di avere Una usb c Usb c Per quanto riguarda questi cavi Ma vabbè Ci accontentiamo per il momento Ma comunque sta di fatto Che ha due entrate usb Un'entrata usb c Che potete utilizzare Tranquillamente Senza alcun problema E poi Altra chicca Ha un display Che ci permette di capire Subito La carica del power bank Super comoda Perché abbiamo la certezza E possiamo gestire al meglio Appunto La batteria Che ha poi Il dispositivo In questo caso Parliamo di 10.000 mAh E ancora Più completo E ancora più figa Anche la possibilità Di utilizzare Quest'ultimo Come uno stand Mentre siamo in giro Per esempio Possiamo mettere Il cavo Ricaricarlo Non è wireless La ricarica purtroppo Ma comunque Ci sta perché Abbiamo il cavo Qui attaccato Lo smartphone Noi lo mettiamo così E ci funge anche da stand Ci fa anche da stand Certo dovete un attimino Centrarlo Una volta che l'avete centrato Però vedete che Regge tranquillamente E regge anche smartphone Un po' più grossi Per da stand Vi faccio vedere per esempio Il 12 Pro Max Guardate qua Badabim Ed funziona Fantastico Quindi uno stand portatile Un power bank Funziona bene Bello esteticamente E abbinato a questo Ragazzi Una sciccheria Pazzesca Quindi stra stra approvato In giro sto portando Sempre lui Sempre questo power bank Qui Ho abbandonato Quello Ok Non è finita qui Però ovviamente E vi dico subito Che abbiamo un altro gadget Molto molto interessante Questa volta Comunque in questo caso Di urbanista Vi parlo di uno speaker Speaker Veramente super interessante Parliamo Dell'urbanista Sydney Che ragazzi Devo dire Mi ha abbastanza sorpreso Vi faccio vedere meglio Dalle inquadrature anche di lame È abbastanza sorpreso Perché non solo è Ha una buona batteria Nonostante le dimensioni Perché è veramente molto piccolo Lo state vedendo anche dalle clip Ma ha una buona batteria Come stavo per dirvi Il bluetooth funziona benissimo Ha dei tasti fisici Che mi sono piaciuti Adesso ve li faccio vedere E poi anche leggermente Resistente all'acqua Il che è veramente ottimo Io lo sto utilizzando Comunque l'ho utilizzato E provato anche Diciamo In bagno Comunque Mentre mi facevo la doccia Ecco Per diciamo Andare un attimino più Verso il dettaglio E l'utilizzo E certo Non è perfetto Da immergere nell'acqua Secondo me Però secondo me Ci sta Anche magari da portare In piscina In estate Che ne so Potete anche già comprarlo Che ci può stare Detto questo Come vedete È bellissimo esteticamente Secondo me È un oggettino di design Molto molto figo Qui abbiamo Da questa parte La micro usb Piccola pecca Mi sarebbe piaciuta La type c Per la ricarica Ma comunque stavo per dirvi Micro usb per la ricarica È un'entrata jack Per utilizzare Il dispositivo In maniera accablata E poi ovviamente Tastini per la regolazione Per l'utilizzo E per utilizzare il dispositivo Nel migliore dei modi E funziona bene Ragazzi Devo essere sincero con voi Funziona molto bene E l'audio è buono Non aspettatevi Chissà che bassi Lo spengo Perché Se no Lui canta Lo vi faccio sentire Magari con una piccola clip Cose belle Sette che tra l'altro Deve essere anche completato Ma vi aggiungerò Sul secondo canale Oggi però Siamo qui Per parlare di Gadget Veramente fighi E soprattutto Importanti Secondo me Bene Avete sentito l'audio Penso Non lo so Ma comunque Dipende dal regista Cioè dal montatore Comunque Che sarebbe io Comunque Molto molto carino E stavo per dirvi Che non aspettatevi Dei bassi pazzeschi Ma parliamo di una cassa Piccolissima Compattissima Quindi è anche giusto Le frequenze sono Abbastanza ben gestite E non dà grosse distorsioni Non dà grossi problemi Quindi io Sinceramente lo approvo Sotto i 30 euro Secondo me Ci può stare Soprattutto per il design E per E proprio per le funzionalità Che poi ha Secondo me è veramente figo A me è piaciuto Poi fatemi sapere cosa Ne pensate qui sotto nei commenti E ho diversi speaker Fatemi sapere se Una guida Al riguardo Vi potrebbe piacere Detto questo Andiamo avanti E vi parlo di un gaggettino Per l'inverno Utilissimo Lo sto utilizzando Soprattutto mio fratello Tantissimo Ed è la svolta Soprattutto quando fa freddo Guanti Voi direte guanti Ma che ci fa Che cosa hanno di tech Beh sono guanti touch O comunque Che vi permettono di utilizzare Il vostro smartphone Senza alcun problema Voi li indossate Come vedete anche Sono pieni di pelucchi Perché sono effettivamente Tanto utilizzati Questi qui Li stiamo utilizzando Veramente tanto E che cosa vi permette di fare Beh grazie a questi piccoli Vedete C'è questa piccola Diciamo Estremità blu Avete la possibilità Di utilizzare Lo smartphone Senza alcun problema Perché riescono a farvi Vediamo da questa parte Se riesco a farvi vedere Vedete Che riescono ad attivare Il touch Senza alcun problema Magari abbassare Un po' La luminosità Vedete Lo utilizzate Utilizzate lo smartphone In giro Senza alcun problema E vi riscaldate Anche le mani Cosa figa di questi qui È che hanno anche Una specie di grippettino Da questa parte Vedete È un piccolo grip Che è super utile Soprattutto per esempio Se andate in bici Mio fratello per esempio Li utilizza proprio In questo modo qui Li utilizza per andare in bici E avere le mani calde E poi tramite un gadgettino Che ci è attaccato sulla bici Lui può gestire E lo smartphone Con musica Eccetera eccetera Mi raccomando Se siete in bici Utilizzate lo smartphone Con parsimonia State attenti Perché è importante E due Mai due cuffie Quando siete in bici Non lo so Piccola Cosa da Non lo so Nonnino Però è importante Sono cose importanti Detto questo ragazzi Costano meno di 10 euro E ne vale la pena Li ho presi proprio per i medi Scusatemi Non volevo fare questo Però Fantastico Ve li straconsiglio Per il prezzo Secondo me È un gadget da avere Per l'inverno Secondo me ci sta Assolutamente Andiamo avanti E andiamo avanti Con un gaggettino piccolissimo Una pen drive Una penna usb Voi direte Ma come Nel 2022 È una penna usb Attenzione Questa non è solo Una penna usb È una penna usb Da 64 gita Tra l'altro Potete prendere anche In altri spazi C'è altre memorie Un po' più grandi celle C'è anche 128 256 Come volete Così la prendete Ma è anche usb c E perché Così figa E perché Ve la consiglio Perché se avete Come me Un iPad E ve lo prendo subito Da 64 giga Voi potete Agganciare questo E gestire i file In due secondi Vedete Piccolissimo E gestite tutto Veramente nel migliore dei modi Ambito produttivo Eccezionale Ma non solo Ambito produttivo Anche per fare Dei backup Di foto Documenti Eccetera eccetera Una chiavettina Del genere È sempre utile Per il prezzo Secondo me Ci sta E poi È piccolissima Compatta Potete anche Metterla nel portafoglio Averla sempre con voi Secondo me Da avere un prodotto Del genere 64 giga Possono andare Più che bene Soprattutto se come me Magari ci mettete Documenti Qualche foto Veramente Eccezionale Ve la consiglio Se invece Volete fare Backup di video Cose Prendetela molto più grande Soprattutto se registrate In 4k Quindi Nulla Secondo me Eccezionale Tra l'altro Ci sono anche Versioni per Iphone Tramite la Lightning Non dico per Android Perché essendo USB-C Già potete utilizzarla Su qualsiasi smartphone Android Quindi Top ragazzi Top acquisto Uno dei migliori acquisti Di sempre Per quanto mi riguarda Soprattutto Per iPad Che ho appunto Da 64 giga Quindi Toppe Ma non è finita E dico che non è finita Perché effettivamente Ci sono altri due gadget Iniziamo da quello Un attimino più grossicino Ma comunque utile Eccolo qui Questo O comunque questa È una borsa 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 Perché ho detto Borsa Non lo so Ma comunque Una borsa Una pochette Una custodia Per il vostro MacBook Notebook Da 13 pollici Secondo me Comodissima E da avere E da avere in linea Diciamo Entrata da questa parte Dove potete mettere Lo smartphone Potete fare tutto quello Che volete Secondo me Super comoda Anche per chi Magari vuole essere Abbastanza minimalista E vuole magari uscire Semplicemente Con questa qui Con una borsettina del genere Da mettere in questo modo Ci mettete Da questa parte Il Mac L'iPad Quel che sia Eccetera E da questa parte È un bullet journal Uno smartphone Delle cuffie Tutto quello che volete Bella capiente Bella protettiva Le cerniere funzionano molto bene Non è un gadget nuovo Questo qui Lo utilizzo effettivamente Da tanto tanto tempo Ma Mi sa che non ve l'ho mai presentato Ed è per questo proprio Che Ho voluto Inserirlo all'interno Di questa guida Perché secondo me È molto molto comoda Molto utile E per il prezzo Secondo me ci sta Veramente Tanto 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 Detto questo Per ultimo Come è successo Come anche nel precedente episodio Vi voglio consigliare O comunque Voglio dare un piccolo extra Con un ritorno Nel precedente video Vi ho consigliato Un gadget Un set Per fare foto E video con iPhone Formato da un pixie Un supportino AC E un microfono Però lì Comunque Unendo tutti Questi gadget Arriva ad un prezzo Abbastanza elevato Se volete qualcosa Di molto più economico Perché ho visto Che molti mi hanno chiesto questo E soprattutto Ho visto che proprio Siete interessati A questa tipologia di gadget Io vi consiglio Ancora una volta Questo qui Lo so È un ritorno Ma ragazzi Prestateci attenzione Perché secondo me È eccezionale Perché dico questo Questo è un supportino Un supportino di Xiaomi Una specie di selfie stick Che però vi farà Anche da tre piedi Veramente super comodo Uno è Bello resistente Non avrete sicuramente problemi Utilizzo addirittura Questo qui adesso Così vi faccio Vedere che va bene Anche per smartphone Un attimino più grandi E comunque rimane Bello saldo Questo è un 12 Pro Max E come stavo per dirvi Vi fa da tre piedi Vi fa da selfie stick Come vedete Vi fa anche da selfie stick Senza alcun problema E non solo vi fa da tre piedi Per foto e video Verticali Cioè orizzontali Scusatemi Ma anche verticali Infatti Però dovete un attimino Riposizionare il tutto Magari lo mettete così Voi potete girare Tranquillamente il dispositivo E farvi foto e video Verticali Perfetto per TikTok Perfetto per i Reels Perfetto per tutto quello che volete Perfetto anche per semplici foto Verticali Quindi veramente eccezionale Super super completo Poi è comodo E da non sottovalutare È la possibilità di gestire foto e video Tramite Bluetooth E questo telecomandino Comodissimo perché integrato Proprio nel dispositivo Proprio nel treppiedino Secondo me è fantastico Con questo video O comunque con questo gadget Ho realizzato diversi video Sul secondo canale Quindi ve lo consiglio Perché lo utilizzo Quindi top Poi una volta finito di utilizzare Potete richiuderlo E diventa super super completo Un compatto quasi grande Quanto un 12 Pro Max Quindi potete metterlo tranquillamente In una giacca O nelle tasche Detto questo E finito con questo gadget Ragazzi Siamo arrivati alla fine di questo video Io vi ringrazio come sempre Per il supporto Mi raccomando Fatevi sapere cosa ne pensate Di questi gadget Ve lo dico E sono molto sincero con voi Per me la figata di questo Diciamo di questo video I top gadget di questo video Sono questi due Perché questo funziona benissimo E mi sta dando grosse soddisfazioni E questo cavo è una chicca Che ho cercato per 3-4 giorni di fila Dopo un video di Marcus Brownlee E so che molti lo stanno cercando Soprattutto se seguite quel canale Quello youtuber Ormai un'icona del mondo tech Si dice così Non lo so Vabbè Detto questo Vi voglio bene Ci vediamo prossimamente con un nuovo video Qui la fotocamera è registrato Ma la stacchiamo Badabam E ciao È sabato Alle 13 o domen- Non lo so Seguitemi su Instagram per ragionamenti Ci vediamo online con un nuovo video Ciao a tutti